Buongiorno a salone, voi non siete una testa qua in un sol, nel verno, io sono felice di avere benedire stato, ci siamo appena tutti, applauso, applauso, la forneola avanti e dietro tutti quanti, sto davanti, sto davanti il microfono, il nostro di genitorio mi sento, no, l'ho che sta mi sicuramente, e Leo, Leo, io un po' che ho, un po' che mi scelgo. Non credo quei sono in balli, è una cosa prima di fare, la peniglia, no, 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 0... Guarda, guarda un tipo di prima, lo vedete? Convelo guarda al momento ecco ecco aiuto mi sento tanto il mio amico è arrivato in ginocchio sul vero e sanno della bollea no 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 ma è molto è molto è molto incontentivo però mi metti tutti i bai e mi si portava le morde stagione ricordiamo che è la serata di questa sera si allora si 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 seguendo si 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 Ho paura che prima o poi il terreno è giustato, c'è una della grata e mi trovo capa scatta. No, ma non c'è bene in queste serate che sta bene, quando c'è caldo non è un po' di caglino. All'interno invece dicevamo Ciu Ciu Stex con Tauro Tucci, con la grata Regina Maieni, i paleriti che sono per le adaganti, le adaganti e i palerino all'interno sono le quattro, Gianni, se vabbiamo a tutti, «dio», «dio», «dio» e «dio» e «dio» e «dio» e «dio» e «dio» e «dio», «dio». Aggi, «dio», «dio». «Dio» «dio», «dio», «dio» «dio» «dio». «Sì, dio». «Dio, domani, finissime, si potrà riportare fino alle 4». «È vero, allora che ne vedo dici alle 3, al sabato fino alle 4». «Ci sono una sorpresa, la sua sera in Grizionio, ciò caso…». «C.. ma non grazie, complimenti!». E' bello! E' bello! Abbiamo fatto la canta che ogni CD è marchiato per l'immagine nostra quindi c'è una con me e la con la mia e la con la mia non c'è un'altra foto della folle Questa sera la lanciaremo E' bello! 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 Mi sento molto la fina lottana ed è bello! Abbiamo... l'ultimo settembre lanceranno la nipida, l'ha lasciata regalata a qualcuno del pubblico, sta provando coragine, perchè tra tutti in ora quello non c'è nessuno, è stata una carriera, aspetta, ci sei trasfitto nel coso di pomodoni, avevo lavori, hai l'ultimo settembre a portarlo... l'ultimo settembre lanceranno... bene, così lo puoi fare, si aspeta di più, si sa chied influential l'ultimo settembre lo mette dove hoiasso un libro, conosci a studia, chi li ha conosci, comincia a studiare... ad esempio per studiare vi cominciai a studiare? vabbè, io so bene in un senso a mio anno Sì, perché stavo sempre posto bello. Ma io non sono dire che io mi è già cosa stavo io. Ma sto bello per la tua piccola. Poi il tuo momento ti dice così, ha nata tanto, ma lo stai io non ho natato il suo. Senti, guarda, mi vuoi fare la moglie che è il mio amico, ti stavo atta tanto. Ma la tua moglie sono sempre posta a tu, ma che stai? Io non era. No, ma non era. Mi ha invitato la moglie. Mi ha invitato la moglie. Mi ha invitato la moglie, mi ha invitato la moglie. Sì, non senta male, se c'ha la forza. La donna che c'era anche la cuglie le panni. E' capace di fare i segnali. Adesso viene tanto, ecco, c'ha la forza in realtà. Sì, si viene tanto la forza. E lui, ma cosa? Gli dirà sulla promozione. Anche la lina mi ha detto che devo fare la promozione. No, 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 no. Allora si può provare, dai, si può provare con la forza. Ma proviamo? Ecco, il passato è il bowling da mannare. Ah, tutto perché si intende a strada. Aiuta. Io volevo ricordare che comunque, ovviamente la stasera domeniché, che saranno due serate spettati, domenica, non potete mancare, avremo con noi Dolce Nera. Senza la quinta volta dal cliente Dolce Nera. Occhia! Avremo con noi Dolce Nera! Dolce Nera! Dolce Nera! Dolce Nera! Dolce Nera! Questo è la domenica. Questo è la domenica. Io vado giù a cercare con il pezzo. Va bene, dai. Grazie di cuore al nostro... Grazie Griglida! Grazie al nostro... Grazie al nostro... Il mio amico Pococò. Grazie mille! E quanti il nostro autobalato! E' un altro passo alla bici di Cucatina e Spagna. Grazie a tutti!